Cosa c'è di nuovo, dottor Lococco, nella diagnosi del trattamento del tumore del polmone? Le novità più importanti sono innanzitutto la diagnosi precoce. Ci sono molti studi di screening che oggi hanno la possibilità di fare una diagnosi in uno stadio iniziale del tumore del polmone. E questo migliora moltissimo i risultati della chirurgia. Da un punto di vista chirurgico ci sono delle nuove tecniche chirurgiche, diciamo quelle mini invasive, cioè la chirurgia fatta con i buchi, con i forellini, tanto per capirci, che ci permette di avere risultati molto importanti con una riduzione notevole delle complicanze postoperatorie e anche del disagio del paziente, un ricovero breve di due o tre giorni nel postoperatorio, niente dolore, una ripresa rapidissima senza fare la riabilitazione respiratoria. Per i tumori non operabili che purtroppo ancora ci sono, la possibilità di fare delle biopsie chirurgiche permette di fare degli studi di biologia molecolare che permettono di trovare dei target specifici di recettori delle membrane cellulare che permettono oggi di fare terapie innovative come le terapie biologiche e soprattutto l'immunoterapia che danno dei risultati davvero eccezionali.